R101 News Migliaia di azioni armate, decine e decine di gruppi su tutti e su tutto le Brigate Rosse e l'ACME della crisi. Moro. Sono stati gli anni di piombo in Italia. Davide Steccanella, penalista del Foro Milanese, ha scritto gli anni della lotta armata. Cronologia di una rivoluzione mancata. 486 pagine per ripercorrere un conflitto che ha insanguinato il paese tra gli anni 60 e 80 dello scorso secolo senza precedenti. Sentiamo l'autore. Lo sforzo che ho cercato di fare è di ricostruire un periodo storico che a fondo è stato l'ultimo grande episodio del Novecento italiano. Tutto sommato, perché dopo poi si è passati al secolo nuovo. Quello è stato un secolo particolare dove avvenivano questi fermenti di rivolta e dove si credeva che si potessero cambiare le cose con la forza. È proprio figlio del Novecento quel periodo lì, quella vicenda. Un'opera ampia che va da Feltrinelli ai recenti funerali di Gallinari, gli anni della lotta armata di Davide Steccanella, edito da Bietti.